Giuseppe su Instagram mi chiede come deve essere impostato un allenamento con i pesi per migliorare nel Taekwondo? Allora queste sono domande che mi fate spesso e più volte ho risposto per altri sport e sostanzialmente il concetto è sempre quello. Non prendete la sua offensiva, in realtà è una cosa positiva, una cosa molto positiva, altrimenti dovrebbero esserci strength and conditioning coach specializzati per ogni singolo sport. Fortunatamente non ce n'è bisogno perché il vostro sport non è così speciale, il vostro corpo non è così speciale, i movimenti che dovete fare voi non sono così speciali. Cosa intendo con questo? Intendo che ci si allena allo stesso modo per tutti gli sport? Assolutamente no, però al tempo stesso i movimenti essenziali che deve compiere il corpo umano e le qualità fisiche che deve migliorare un corpo per riuscire ad affrontare al meglio la stragrande maggioranza degli sport sono sostanzialmente gli stessi. Nel taekwondo, così come nella box, così come nelle MMA, così come nel judo, così come nel karate, devi diventare più forte, devi migliorare la stability, devi avere la giusta flessibilità, devi avere la giusta mobilità, devi avere un ottimo core, devi avere ampia forza muscolare e potenza muscolare, devi avere resistenza aerobica. Di conseguenza non è così estremamente diverso l'allenamento che dovrai fare tu per la tua disciplina di arti marziali rispetto a quella che dovrà fare ad esempio un kickboxer. E ti dirò di più, non solo non sarà così diverso rispetto a un kickboxer, che comunque è uno sport tra virgolette molto simile, ma addirittura non sarà così diverso rispetto all'allenamento a livello di preparazione atletica logicamente che dovrà fare un calciatore ad esempio. Dovrai rendere i tuoi glutei più forti, dovrai migliorare e muoverti sul piano sagittale, sul piano trasversale, dovrai rendere più potenti i tuoi movimenti, più rapidi i tuoi movimenti. Poi il calciatore li sfrutterà magari maggiormente per il salto verticale o per uno sprint sui 30 metri e tu che fai taekwondo lo sfrutterai tali qualità per altre cose. Quindi non pensiamo che i nostri allenamenti debbano essere così diversi rispetto a quelli degli altri, perché in realtà le qualità di base che servono ad un atleta di arti marziali miste o un combat sport e le qualità che servono ad esempio ad un giocatore di pallavolo non sono poi così diverse. Poi è chiaro, andiamo nello specifico in diversi casi e cambiano certe cose, ma per la maggiore tutto quello che ho sempre spiegato su YouTube, su Spotify, sui miei articoli che trovi su nicolasrubini.it per quanto concerne il miglioramento della prestazione sportiva si applica seriamente anche a te Giuseppe.